Come italiani, ma come comuni italiani, quindi la ringrazio, penso, al nostro tutto il Consiglio per l'impegno che si sta profondendo e che si parla non tanto, quindi come politico, attorno a questa vicenda. Lei mi consentirà però di difendere questo Consiglio e anche l'istituzione che vi rappresento. Noi non vogliamo fare delle prime politiche in questo momento. Noi, ti prego, ragazzi, ti prego un attimo, noi abbiamo, concluderemo questo Consiglio con una mozione che prevede l'istituzione di un Stato distinzionale. Io capisco lo cittadino, ma la necessità è proprio quella parte, e sono capito che non mancherà, di avere la sua presenza, la sua passione, il suo entusiasmo vicino a questo Consiglio Comunale e alla politica, che è legato il disco e vicino alla popolazione della prima quattro mette. Vogliamo una coppia della lettera! Vogliamo una coppia della lettera! Allora, io dico ai lavoratori, non solo aprire la coppia della lettera, che tra l'altro è una funzione che non è una lettera a testa, quindi è un documento che ha un'ufficialità diversa, ma noi c'è un piano di capi a breve la comunicazione che è istituito il Stato alla lettera e fine dalla simulazione. il suo condimento è un piccolo qua, che è un progetto il smooth değer, che ha un il video di un incontro, di una posizione che non è stata fatta di dritta! Giù che di Dieselman, di un posto, determinato, ecc norme! Ed attività deiATHER, accompagnate di un frmitto. Abbiett! Abbiett! come noi? come noi? come noi? la sua data è? come noi? come noi? come noi? il settore aeronautico di filmeccanica di cui a Leone aeronautica e la società capofina, a certo tempo intrapreso un processo di riorganizzazione delle proprie attività attraverso l'integrazione delle competenze industriali delle diverse società. L'obiettivo è quello di consentire al sistema industriale italiano di mantenere la capacità di progettare, produrre, testare, supportare logisticamente un venivolo completo ad alla pista in uno scenario internazionale di mercato sempre più competitivo e caratterizzato da una generalizzata contrazione dei budget nazionali della difesa. Per questa ragione in questi giorni viene presentato alle organizzazioni sindacali un piano di rilancio che oltre a nuovi investimenti presuppone una necessaria attività di ristrutturazione delle organizzazioni. Tale processo sarà consolidato attraverso la fusione e l'incorporazione di Alenia e Macchina Alenia e Unattica in modo da realizzare un'unica realtà industriale con l'unico nome e unica azione sociale, affiancata da due sedi operative che saranno il paricentro di attività veribolistiche omogenee. In questo contesto il territorio napolitano continuerà a rivestire carattere strategico per la nostra azienda anche alla luce del processo di utilizzazione dei siti che verrà realizzato tramite una redistribuzione delle attività per gli stabilimenti campani. In particolare a Polignano d'Arco verrà istituita la sede operativa per il settore civile che nei prossimi anni è un grado di assumere sempre maggior peso nel finanziamento per le diverse attività industriali dell'azienda. A tal proposito verrà realizzata una head design organization destinata ai medici civili e in particolari regionali. I contenuti successi commerciali di ATR inoltre consentiranno carri di lavoro sostenibili nel tempo mentre è allo studio la possibile partecipazione allo sviluppo più nuovo che vengono civile. In ogni caso nessun dipendente perderà il posto di lavoro. almeno questo. Ma si darà l'uomo a contribuire delle risorse umane in termini quantitativi e quantitativi facendo ricorso agli strumenti tecnologici attraverso soluzioni che vinono a eliminare ogni impatto traumatico solo per il profilo buro. Per realizzare gli obiettivi che ci siamo presentati e qua la conclusione di quello che già diceva il senatore sarà in ogni caso necessario il sostegno delle istituzioni e tutto quello di questo. Questo è quando ci scrive il dottor Giorno. 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 Galcentotti. Dottor Filippi. Non c'era chi.